Sarà un test importante perché è una squadra che ha vinto e le squadre che vincono hanno sempre un impatto forte con i campionati. Poi è ovvio che la Serie A è un campionato che non hanno mai fatto, ma per noi sarà una partita sicuramente difficile e dovremo affrontarla in una maniera migliore. Lui è maniacale anche se deve giocare in amichevole. Io sono molto contento perché è innanzitutto un uomo veramente meraviglioso, una persona di quelle serie, di un pezzo, una persona leale. Poi sono contento perché è anche un segno che a volte la gavetta e tanto lavoro, lui ha vinto ogni categoria e quindi sono contento che possa cimentarsi finalmente e confrontarsi con la Serie A perché non aveva mai avuto la possibilità e quindi mi fa veramente molto piacere. Gli avevo anche scritto un messaggio per questo. Noi a parte quell'episodio della partita di Torino, che è un episodio che ancora facciamo fatica a spiegarci, ma che abbiamo visto in questi giorni perdere il Barcellona alla finale di Supercoppa 4-0 ed è il Barcellona campione d'Europa. Purtroppo ci sono dei tilt e noi l'abbiamo avuto nel momento in cui non lo dovevamo avere, però credo che per tutto il resto del precampionato abbiamo fatto un ottimo lavoro, delle ottime prestazioni. Siamo fiduciosi perché siamo un grande gruppo, perché siamo una squadra che sta a soffrire, che è abituata a lavorare, a lavorare bene e quindi siamo sicuramente fiduciosi per l'inizio del campionato.